Nell'estate 2021, nonostante il periodo di piena emergenza sanitaria, il Comune di Camerota ha fatto registrare numeri importanti sul territorio, confermando la sua terza posizione in campagna come meta preferita dai turisti dopo Napoli e Sorrento. Sulla base dei dati comunicati delle strutture ricettive locali, registrate sul portale PayTourist, per il calcolo e versamento dell'imposta di soggiorno dovuta all'ente civico, si evince che sono stati oltre 650.000 per notti registrati sulla piattaforma, per un totale di 420.000 euro riscossi dal Comune, retto dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. L'affluenza è stata soddisfacente ad aprile fino ad ottobre, con un boom di presenze nei mesi di luglio e agosto. Quasi la metà dei turisti giunti sul territorio hanno soggiornato presso villaggi turistici o alberghi. I turisti che hanno soggiornato in campeggio sono il 17,26% del totale. Nelle case e appartamenti invece il 9,34%, l'8,58% in hotel, il 5,47% sono locazioni brevi e i residenti in B&B, residence e affittacamere. Sono 3.580 invece i turisti che hanno soggiornato nelle proprie imbarcazioni attraccate presso il porto turistico di Marina di Camerota. Nel 2021 la fetta grossa dei turisti è giunta dall'Italia, principalmente dalle province di Napoli, Roma, Salerno, Caserta, Avellino e Milano. Il resto è in percentuali minori da Benevento, Bari, Torino, Potenza, Trento, Frosinone, Perugia, Verona, Plescia, Bergamo, Bologna, Bolzano e Firenze. Il primo paese estero per turisti presenti nel 2021 a Camerota è la Germania, seguita da Svizzera e Austria sul podio. Si sono registrati anche flussi di turisti francesi, ciechi, inglesi, olandesi e americani. L'84,98% dei turisti che nel 2021 hanno scelto Camerota per trascorrere le proprie vacanze sono state famiglie, l'8,52% gruppi, mentre il 6,5% viaggiatori solitari. Tanti bambini con un 21,28% appartenenti alla fascia d'età 0-14 anni, solo il 7,06% sono stati adolescenti, 15-19 anni, meno del 5% del totale sono stati visitatori anziani appartenenti alla fascia d'età 70-90 anni. Infine, decisamente positive le recensioni e i feedback, oltre 500 lasciate dagli ospiti arrivati in a Camerota da ogni parte del mondo sul portale PayTourist con una media di gradimento del 4.10 su una scala di 5.